Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. La notte è un pezzo che è stato portato tantissime volte ai talent. E quindi a maggior ragione è un artista, ha una responsabilità proprio in relazione a questo. che è un brano tra l'altro difficile, fatto da una cantante che ha un'estensione vocale difficile da eguagliare. E io registro questo episodio in piena notte. Si parla di notte. Io non riesco a lasciarmi stare. Dicevo, beh, domani metto a fare gli episodi X Factor o una bella settimana. Ma poi scorrendo, scrollando, mi trovo questa roba, non ho resistito. E subito mi ha fatto venire voglia di dire qualcosa. E quel qualcosa è comunque questa ragazza grandissimo valore umano. Io ho deciso che quest'anno X Factor vado a parlare solo di quelli che mi toccano, mi colpiscono, senza stare a fare, oppure anche in negativo, però non voglio accanirmi con nessuno, a meno che non c'è della viralità di mezzo. Mi è un piacere comunque poter parlare di giovani e X Factor mi dà questa opportunità e di parlare di quanto comunque questi ragazzi, ci sono ancora dei ragazzi che si identificano della musica e lo si può fare anche semplicemente interpretando. Non è necessario scrivere una canzone, è necessario regalare un'emozione. Morgan porta un bel concetto, dice ma perché tutti si identificano nel dolore? Strano perché lui dovrebbe saperlo bene questo concetto, ma ogni persona vive fasi. E in questa fase Morgan si sente di porre una domanda ed è bellissimo, un giudice che pone una domanda e la risposta di Ambra è giusta, è giusta perché è comodo, è comodo. Mi piace questa combo, questo equilibrio tra i giudici e mi piace anche che Morgan abbia detto questa canzone, non è che mi piaccia ma l'hai fatta piacere. La ragazza è veramente un talento, è veramente forte, perché soprattutto ha questa roba qui che ha un forte desiderio espressivo. Ecco, io mi sono reso conto, vedendo qualche audition, che quest'anno mi sa che è quello che vuole il pubblico. Il pubblico si è rotto il cazzo della fuffa, vuole gente che abbia qualcosa da dire e che ce l'abbia forte. Il trash si è rotto il cazzo. Quindi comunque è sempre una buona opportunità ascoltare queste esibizioni. Io comunque la penso come Morgan, non è che faccio fatica, prima era più facile, oggi faccio fatica a commuovermi per una performance così, ma non faccio fatica a capire che magari su 100 persone 90 lo fanno. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti Oro, Platino ed Eco Chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tanzero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre.